Sono Raffaella Violino, ho 53 anni, mi occupo da 20 anni di criticità sociali. Per me lo slogan del movimento Nessuno resti indietro è la mia ragione di vita è professionale. Mi occupo di inserimenti lavorativi e di sostegno alle criticità sociali. Oggi come oggi l'unica vera risposta che si può dare è davvero l'inclusione. Perché non esiste possibilità per questa società se non si passa oltre. E passare oltre vuol dire non lasciare nessuno indietro. Non sono una tuttologa, voglio assolutamente occuparmi della mia realtà professionale anche portando dentro la mia professionalità all'interno del gruppo dirigente e comunque di chi prende le decisioni. Oggi è sempre più importante fare queste scelte, fare delle scelte mirate, cercare di risolvere i problemi. Quando noi mettiamo a posto una criticità sociale, facciamo un inserimento lavorativo, risparmiamo 10 volte, non una sola. perché la persona che viene inserita, viene reinserita nel contesto sociale della vita non richiede più assistenza. Quindi sviluppa anche l'indotto. E l'indotto vuol dire abbassare l'assistenza, abbassare la richiesta di farmaci, le criticità, l'ex detenuto che lavora, non recidiva, la persona che ha una famiglia riesce a mantenerla. Quindi il lavoro al primo posto nelle priorità del movimento. Le risorse per far ripartire questo paese e le si trovano soltanto partendo dalla piccola realtà, dal piccolo progetto e dalla progettualità di ciascuno di noi. Io sono disposta ad accettare consigli, suggerimenti da parte di chiunque perché questa povera regione che l'ha vista di tutti i colori. Non ripartiamo dalla regione per cambiare le cose a livello nazionale perché no europeo. I sogni sono possibili, il movimento lo sta dimostrando.